Dopo il pronunciamento della Corte Europea, il deputato Dem Luciano D'Alfonso si è espresso in merito alla gestione della direttiva Bolkestein appellandosi alla sentenza del Consiglio di Stato 2021 Patroni Griffi, che prevede la realizzazione di un bando con procedure ad hoc che tengano conto delle specifiche realtà attuali con esperienze, peculiarità e caratteristiche di gestione locale nel rispetto della sostenibilità e delle regole richieste a livello europeo. Sia ad una mappatura della risorsa spiaggia, seguendo però lungimiranza e capacità amministrativa. La direttiva Bolkestein va applicata, il che significa vanno fatte legare, sia per determinare il pieno rispetto del principio di concorrenza, che è una delle due anime dell'Europa, e poi per fare in modo che lo spazio marittimo ne esca promosso, coltivato. Se si legge la direttiva Bolkestein coordinatamente con la sentenza Patroni Griffi del 2021 e con la direttiva dell'UE 2014-89, con questa lettura coordinata si possono cogliere gli elementi per generare un bando di gara che non sia in odio delle tradizioni locali di gestione degli stabilimenti balneari, pure rispettando il principio di libertà e di libera intrapresa. Dobbiamo stabilire quanto grande deve essere la stazione appaltante, unica in Italia, su base regionale o provinciale. Io propendo per una stazione appaltante provincializzata, territorializzata, per garantire l'adesività. E poi un bando di gara che esalti le gestioni preesistenti, il rapporto collaborativo con gli enti locali, le ulteriori funzioni veicolate da una gestione corretta e sostenibile di una concessione demaniale balneare. Facciamo in modo che i 630, in Abruzzo sono 630 concessionari, vengano messi nella condizione di esprimere il meglio della loro bravura, così come c'è bisogno anche che nel bando di gara si dia conto del valore di subentro eventuale riferito agli investimenti già sostenuti in passato per le attività realizzate, i lavori effettuati per consentire la concessione di esprimere tutto il suo valore. Questo si deve tradurre in un valore di subentro che va scritto negli atti di gara.